Grazie il numero 4 esattamente l'opposizione di Agrabia e allora normalmente palla al numero 2 cioè se invece palla non si continuano il ventaggio il numero 7 Ficarra è la prima forza il posto è consentibile di dare sicurezza alle partite con il numero 7 esattamente sconfitte consecutive tre sconfitte che hanno il relegale di fatto a Trapovic traversone con il sinistro del numero 4 esattamente Godaro e il tiro dalla distanza a Vavo 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 il tiro nel numero 6 il tiro distante qualche e me lo hanno scritto della volta al quarto minuto di di 4 però adesso sono 24 ma attenzione io no c'è il numero 6 non me la genere ma che riesca a capire che sia il Vipus è pronto a aver calcio il Vipus il sinistro è il sinistro è il sinistro e il sinistro i suoi amici di unizionario con la loro che sto andando a Carmelo Maglio l'ha detto a Stratura e lì c'è il gol è 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 il gol La donna entra, mentre la donna è la scuola, è uscito? Il campagno si è colentato a Corretaud, con Cassalia in uscita, ha fatto inserire la scuola, 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 ha fatto inserire la scuola. Il campagno sta finendo questa partita e ci vuole entrare, attraversa, attraversa del Vigilipus, con il numero 23, ha conquistato la vittoria a fuori casa, ha conquistato ben sette minuti, attenzione, attenzione, iniziamo avanti con il numero 9, con il numero 9, che passa il numero 7, la scuola è un po' di tiro, 4 a 0, con il numero 3, con il numero 3, questo non è solo bello? Questo non è solo bello, c'è una scuola, la scuola è continuata, 4 a 0, c'è una scuola che si è continuata. Devevo letto il mio risorgere, non ho fatto di partire, non ho fatto di partire, non ho fatto di partire, non ho avuto di piacere, di cimentare. Tanto raggedo a tutti i primi dei bisogni e a tutti i primi dei bisogni che mi vedeva che tutte le mie presenze erano stati più mesi con i miei impegni di scuola in senso di non testare da conto perché tutti e tutti e tutti i bisogni sono stati più mesi.